Tutti al mare, tutti al mare! Finalmente si parte, si va al mare, anche se per i tarantini c'è una singolare alternativa. C'è il fiume Tara a due passi dalla città. Acqua limpida e freschissima che pare abbia anche delle qualità terapeutiche per le malattie articolari. E il fiume che cantava Orazio e che ancora oggi per molti tarantini è un luogo senza uguali. Un bagno in queste acque, a qualunque età, ha il suo fascino particolare. Naturalmente ci sono poi le mete tradizionali. Qui siamo a Castelaneta, bandiera blu per l'ennesima volta, con strade, locali pubblici e spiagge affollatissime. Un ferragosto da tutto pieno, sia pure per pochi giorni. Difficile persino trovare un posto per l'auto, ma alla fine ripaga la sabbia finissima e l'acqua limpida di questo tratto di costa a occidente di Taranto.